Ciao a tutti, sono Ketty Mangraviti, Master Crystal Nails, e questo è il video tutorial per la presentazione dei Gel Color 3 Step Sense. Prepariamoci per bene per presentare i nuovissimi 3 Step Color della linea Sense by Crystal Nails. Ecco, 10 tonalità fantastiche ad altissima pigmentazione con un design super accattivante tra nero e oro per definire una gamma di prodotti di altissima qualità, esclusivamente per la nail art. Iniziamo quindi con il primo colore, il più importante se parliamo appunto di nail art, il numero 1, il nostro bianco, che è veramente incredibile. Guardate la luminosità e per non parlare insomma della pigmentazione, che notate anche in queste colorazioni successive, cioè il 2 in questo rosa, un rosa antico quasi. Ma nello scorrere di queste colorazioni, che vedete insomma già dal video, sia per lucentezza e brillantezza, sia per pigmentazione, quello che insomma mi ha colpito tantissimo è che il colore che si presenta all'interno della boccettina combacia perfettamente con il colore che troverete nella dicitura. Quindi insomma, vedete la fascetta sul nostro nero, guardate che meraviglia, cioè devo assolutamente fermarvi, perché questo nero mi ha permesso di realizzare la nail art che porto in questo video. Ma controllate bene, guardate queste colorazioni super brillanti e soprattutto in questo verde la coerenza tra il colore all'interno e la fascetta, incredibile. Cioè, guardate, mi sono dovuta fermare per farlo notare. E questo giallo ne vogliamo parlare? Posso dirlo? Una vera goduria. E dato che è dalla pennellata che si capisce il grado di pigmentazione di un determinato colore, decido di utilizzare lui, il re di tutti i pigmenti. Il nostro rosso è di andare a gettare un po' di colore sulla mia nail art appena fatta in bianco nero. Ma insomma, cosa sarà mai? Neanche il tempo di dirlo. Eccolo qua e con questo gesto impavido vi mostro il grado di pigmentazione e coprenza che hanno i nostri fantastici e nuovissimi tre step della linea Sense by Crystal Nails. Prodotti che nascono specificatamente per la nail art ma che possono essere utilizzati anche per la stesura monocolore sulla struttura. Insomma, ragazzi, che dire? Scegliate Sense by Crystal Nails. Grazie a tutti.